salve a tutti e bentornati su weird games io sono beradir e questo è blasphemous allora se non sbaglio abbiamo una boss fight da affrontare mi ricorderò come ci si arriva no ah ok fantastico sei venuto da solo qual era qual era non me lo ricordo questo oh 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 ci ho azzeccato wow ora cerchiamo di analizzare bene questa boss fight ah ma l'hai già detto questo si 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 l'hai già detto scusi eh questo intanto lo recupero ok questo non è buono questo lo posso schivare ouch ok no non ci siamo no le sto prendendo in una maniera allucinante ok va bene cerchiamo di capire come accidenti affrontare questa signorina che non sarà una cosa facile tutt'altro beh nel frattempo io spero che il vostro ritorno alla normalità sia stato più piacevole del mio nei prossimi giorni però io cercherò di fare altro staremo a vedere vediamo quello che si riuscirà a fare e tutto il resto ma spero che almeno voi ve la state godendo eh beh non riesco a parlare oh no è là oh si va bene ogni volta devi ripeterlo ai ok ma che raggio c'ha un tracking così non lo vedevo da dark souls 2 dannazione dannazione cerchiamo di morire qua almeno ma dai no un colpo mi è concesso un colpo ok devo provare a vedere se si può parriare secondo me il Perry è l'unica strada decente per agire contro la signorina signorina che ha anche un nome che in realtà non ho neanche letto forse è il caso di leggerlo ma si va bene di nuovo ok grazie dove sarà attaccato questo ascensore ok ci risiamo se ah 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 ok no fra un po' no oh si si può parriare mi sa che è la cosa migliore che diavolo dai non mi da un attimo dai dai forza eh ok madonna no non mi dà proprio possibilità di di sistemare la mia esistenza niente ok va bene va bene comincio a capirci qualche cosa sarà difficilissimo cavolo sarà veramente difficile ok vediamo se riusciamo a sistemare la faccenda in maniera decente non so non so se ce la farò oh santo cielo questa è veramente complicata ah non ho più visto il nome dannazione vediamo se riusciamo adesso a vederlo cioè se mi ricordo di farlo più che altro ok se 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 ok ok uno vediamo se posso così no 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 questo no vai vai no cavolo non sarà per nulla facile ma sta diventando tremendamente divertente ah cavolo sbagliavo tempestica vai oh cavolo no ora no no peste aia madonna no no la seconda cura non mi ha concessa wow mamma mia sarà veramente tosta a meno che non ci sia un qualche errore grafico che non mi fa vedere la y sopra di lei e quando faccio il perry visto che mi sembra stunnata o stordita io non posso utilizzare la y silon come per i mostri base è una cosa che devo vedere decisamente mi sembra strano di avere così poche finestre di attacco in quelle finestre potergli fare così poco danno mi sembra veramente strano o sono io assolutamente scarso e su questo non ci piove lo sappiamo io sono scarso oppure c'è qualcosa che ancora non ho capito di questa faccenda se 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 aia eh l'ho scontata aha liscio preso merda ma ma da Niente, non posso curarmi Sarà molto complicato Probabilmente questo video Sarà molto tagliato A meno che non avrò Un qualche colpo di genio Nei prossimi momenti E non riesca a capire Perché al momento non ne ho Al momento non so veramente Che pesci pigliare E questa è l'unica strada Non ho sbagliato Credo Non lo so Non lo so Però per il momento Non è frustrante Ancora A parte questo Questo è molto frustrante Vai Ok Ah Vabbè Non me l'aspettavo Vai ora Ah Vai Vai Niente Non si fa piacere Uh Come 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 l'ho preso Ah comunque si chiama Crisanta Eh Vabbè Trovo Il Carol D'alto Niente, niente da fare Non riesco a capire C'è qualcosa che mi sfugge, lo so Me lo sento proprio Allora, però, innanzitutto Noi potremmo vedere I cambi... Perché non ho nulla qua? Ah, ecco perché Facciamo questo, magari Poi, vediamo le preghiere Questa no Potrebbe essere carino Ma preferisco questo Ok Aumentiamo Il potere Ok Ora vediamo Dovremmo essere pronti Dovremmo Devo riuscire a capire Che cosa C'è da fare Perché ognuno di questi Balordi Ha una tattica Devo soltanto capirla E questa è la parte più difficile Sì, 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 sì Ah, era solo avvicinato Giacchietto Vai Cavolo Vieni Idiota Quando è in quella posa Non te devi Non la devi colpire Ah, non gliel'ho proprio fregato niente Fantastico Ok Sono anche rimasto in piedi Sono morto in piedi Un re More in piedi Ma io non sono un re Ok Quindi questo Non ci serve Eh sì A questo punto Forse conviene Conviene lasciare in giro Un po' di puzze Beh, almeno Abbiamo qualche possibilità Di fargli un po' di danno Comunque allora L'importante è Non picchiarlo Non picchiarla Mentre si mette in posa Quando è in posizione di difesa È inutile picchiarla Sì, 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 sì Ok Ok Cacchio Ecco qual è il punto Hai giocato passivamente Finora Salve Cacchio Eh certo Io sto qua Fammi prendere a te No Cioè, sì Finora l'ho fatto Niente Ok Ok Sono in fin di vita Quindi quantomeno Dovrei fargli molto più male Oh Ho fatto molto più male Cavolo Dai Ok Ci sono Ci sono Ho capito Qual è il punto Non devo cercare un punto Meraviglioso La scureggetta è inutile Però posso cercare di Riprendere un po' di vita Quanto meno No Facciamone uno almeno Ok Inventario Preghiere Preghiere Eccola qua Sì, 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 sì Questa mi piace Sempre che abbia il tempo Di lanciarla Perché non credo che ce ne lascerà No 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 E non Meno che In mezzo a qualche perri No, ma non c'è tempo Che si riprende Molto rapidamente Fin troppo rapidamente Comunque Vista la difficoltà Direi che siamo Molto vicini A un finale Sì, sì, sì Sì Ok Allà Vai Allà 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 Ma che Ho sbagliato tutto Nella vita Ecco Dall'altra parte Meraviglioso Sì Decisamente Qualche taglio Lo farò O forse no Non lo so Non lo so Mi piace lasciare le cose così come stanno Soprattutto Gameplay totale Quindi Non mi piacerebbe Tagliarlo troppo Però ecco Mi rendo conto che E' frustrante per me Immagino per voi Ai io Viene Cavolo Niente, non è partita la scivolata Mi sono perso qualcosa per strada, decisamente Forse la concentrazione, ok Adesso, concentrato Devo farcela No, non devo, voglio farcela È diverso Ok Sì, 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 sì Vieni Eh, ho sbagliato tasto Via Nooo Ma non mi puoi prendere a tutto schermo Ok, ora sono un po' frustrato Lo ammetto Non mi lascia un attimo di tregua E questo è il punto Non ti lascia un attimo di tregua Quindi Le tue classiche tattiche più da tank Non possono funzionare Vai No Non c'è modo di stordirlo Fa attacchi a tutto schermo Ok Stavolta mi sa che avete veramente un pochino esagerato Veramente esagerato Io stavo per morire per qualche strano motivo Sì, 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 sì Dai, dai, dai Sì, 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 sì Aia Eh dai, ma davvero Niente Attacca Riesco a fare una cosa decente E poi mi perdo del tutto Ah, scorciatoia Dai, 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 dai Ce la posso fare Sì, sì, sì Ajà Vai Ok Come ho detto Il Perry è la chiave Ora Ok Ok Cavolo Cioè Sono morto Perché l'ho toccata Stava andando così bene Ok Devi essere estremamente rapido È l'unica cosa Che odio La sto veramente odiando Questa boss fight Molto più delle altre Perché più o meno Bene Bene o male Nelle altre Mi rendevo conto che Come dire C'erano delle finestre C'erano dei modi chiari Per attaccare Poi era la mia incapacità Che mi portava a perdere Ma in questo caso Oggettivamente Dovrei essere Molto più bravo Di così Ma molto più bravo Della media Ecco Ecco Magari Evitando Ste cose Ah Ecco A sto punto Facciamo l'esperimento No No Era da fare In pratica Scusate Ho voluto provare A attaccare Quando si mette In posa Quindi a Innescare Il suo perri E A cercare Di parriare Quel perri Ma non funziona Non so perché Se sono stato io La pippa Ma Non funziona Non lo tenterò più Ma andiamo E la corcamo E basta Perché è tempo De finirla Non è che Se può andare avanti Così in eterno Sì 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 Lo sappiamo Allà Allà Aia Eh che diavolo Non mi posso far fermata sta tipo E invece mi son fatto fermare Da questa tipa, di nuovo Però così va molto meglio Velocità, rapidità, scattare Scattare Ho avuto paura Scusate Non l'ho fatto il saltone perché ho avuto paura Ok Forza e coraggio Hai affrontato di peggio, cavolo Non è vero Probabilmente uno dei muri più grandi Che abbia mai incontrato nel corso della mia vita Di videogiocatore Ovviamente un muro insormontabile Oh che diavolo Sei riuscito a finire il livello di hot Su Rogue Squadron Questo è niente al confronto No Cacchio, troppo presto Vieni, vieni Eh, è avvenuta Vai, fatti parriare Ho bisogno di cure Ok 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 Devo curarmi Appena la parrio Sto cominciando a capirla E È mezz'ora che ce sto a combatte E questa sarà la quindicesima morte? Non lo so 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 Non la voglio contare perché Perché se no me deprimo Mi vado a sparare E Basta Quanto sono scarso Oh santo cielo Quanto sono scarso Adesso io lo faccio vedere io Quanto sono scarso Dai, 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 dai Dai, dai, dai Sì, 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 sì Ok Ma che Ahà Ok Non so Sono solo scarso Sono pure idiota Non so Oh dai! Eh dai! Peste! Ok 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 ce la posso fare, ce la posso farcela! Sous-titrage ST' 501 Grazie a tutti. 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 Forse questa è stata la boss fight più difficile di tutto questo stramaledettissimo gioco. Ah pure. Che voi vedrete condensato. In realtà sono due giorni. In realtà sono due giorni di intense imprecazioni. Bene. Per la settimana si torna la settimana si torna la settimana si torna live. Si torna live. Grazie a tutti.